E' stata lei, Meryl Streep, la star del weekend alla mostra di Venezia, l'attrice americana presentato con Gary Oldman il film di Steve Soderbergh, The Laundromat, sullo scandalo dei Panama Papers, prodotto da Netflix. L'attrice interpreta una vedova che inizia ad indagare su una frode assicurativa che la conduce ad uno studio legale di Panama City. Presto scoprirà milioni di file che contengono informazioni su società offshore impegnate in attività di riciclaggio. L'attrice del mondo era perché di un lavoro di più di 300 giornalisti, alcune persone diedate per questo, Daphne Caruana Galizia, un giornalista che era investigando a qualcuno del governo in Malta e la sua connessione con il Panama Papers era in fronte di casa in fronte di casa. Il coprotagonista Gary Oldman ha affermato Can it bring about change? Well, yeah, if people see it. So I think this new age that we're in with television, this will reach, this movie, because of it, will reach a lot of people.